Benvenuti nel mondo degli orologi Jack Lemans. Jack Lemans è un marchio di orologi di lusso con sede in Austria, fondato nel 1975 da Alfred e Norbert Riddle. Grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla qualità della produzione e al design innovativo, il marchio si è guadagnato una reputazione nel settore degli orologi. Jack Lemans utilizza solo i migliori materiali per la produzione dei suoi orologi, come l'acciaio inossidabile, l'oro, i diamanti e il titanio. Inoltre, il marchio è noto per l'uso di movimenti svizzeri di alta precisione, che assicurano l'affidabilità e la precisione dei suoi orologi. Uno degli aspetti distintivi di Jack Lemans è il design, che spazia dal classico al moderno. Il marchio offre una vasta gamma di modelli, da quelli più semplici a quelli più complicati, per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di orologi. In particolare, Jack Lemans è famoso per la sua collezione di orologi sportivi, che sono resistenti all'acqua e dotati di funzioni speciali come il cronografo e il tachimetro. Questi orologi sono ideali per gli sportivi e per chi cerca un orologio affidabile e funzionale. Inoltre, Jack Lemans ha stabilito partnership con importanti eventi sportivi come la UEFA Champions League e la Red Bull Race, consolidando la sua posizione come marchio di orologi sportivi di alta qualità. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso con un design classico o moderno, Jack Lemans ha una vasta gamma di modelli tra cui scegliere. Grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla qualità della produzione, il marchio austriaco ha guadagnato una reputazione come produttore di orologi di lusso accessibili.